Buongiorno, benvenuti a questa manifestazione sul progetto del fiume Cosa, un benvenuto anche al prefetto e a tutte le autorità che oggi sono con noi. Allora, prima di iniziare con quello che è la manifestazione vera e propria, vi vogliamo intrattenere con un breve concerto della nostra orchestra, l'Orchestra Pietroforo, l'Orchestra Giovani, che da quest'anno è diventata stabile grazie al patrocinio della Regione Lazio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.